Che spettacolo le partite di questa sera che ci ha regalato la Champions League, due partite veramente incredibili, 10 gol in due partite, non ho mai visto una cosa del genere, o almeno non me la ricordo da quando guardo io il calcio, alla fine non ho 50 anni, non ho 60, quindi può darsi anche che è normale. Real Madrid City al Bernabeu è stata una delle partite migliori che abbia mai visto, una partita assurda finita sul risultato di 3-3, dove le marcature sono state aperte dopo solamente due minuti da una punizione da fuori area abbastanza lontana di Bernardo Silva, che è entrata in porta anche grazie a un bruttissimo errore di Lunin e appunto il portoghese ha aperto le marcature di una partita veramente incredibile, che poi il Bernabeu aveva pure il tetto chiuso che regalava un'atmosfera molto molto più bella e affascinante. Ovviamente quando il Real Madrid va in svantaggio in una partita di Champions League sappiamo tutti che la rimonta dei Blancos è solamente questione di minuti e così è stato, in pochi minuti dopo infatti il Real Madrid pareggia subito il risultato con un autogol derivato da un tiro di Camavinga da fuori area che ha portato il risultato su un 1-1 e poi la rimonta l'ha completata verso il dodicesimo-tredicesimo Rodrigo con una grandissima azione personale dove il difensore svizzero Akanji non è riuscito minimamente a contrastarlo e Rodrigo è andato in porta appunto, riportando in vantaggio il Real Madrid. Nel secondo tempo invece il City rimonta nuovamente a sua volta il Real Madrid grazie a due gol meravigliosi, meravigliosi. Prima di Foden che è stato spento per molto tempo appunto, spento per almeno tre quarti della partita si è visto veramente poco e poi nel momento di difficoltà con il City sotto si è inventato un gol veramente incredibile con un tocchetto di palla e poi un tiro a giro devastante all'incrocio di palla e togliendo veramente le ragnatele dove l'ha messa per l'Uni, non c'era niente da fare e poi arriva un gol bello ma sorprendente perché da fuori Ara fa un bellissimo gol a giro, anche questo imprendibile per l'Uni ma non all'incrocio dei pali, di Guardiol. Cioè mi potevo aspettare tutti, potete aspettare un altro di Bernardo Silva, potete aspettare chiunque ma non Guardiol, non me lo sarei mai aspettato un gol del genere di Guardiol che vi riporta il vantaggio nuovamente in Manchester City ma Real Madrid non può perdere al Bernabeu, Real Madrid non perde al Bernabeu. Real Madrid si inventa il terzo gol della partita appunto sul risultato di 3 a 3 con un gol meraviglioso di Valverde al volo che si insacca all'angolino sinistro, un gol incredibile, 6 gol, una qualità di gioco assurda, incredibile, forse una delle migliori partite che abbia visto di Champions League per qualità di gioco e i gol fatti, 6 gol all'andata dei quarti di Champions League e manca il ritorno dove appunto mancano, non hanno giocato De Bruyne, non ha giocato Walker, non ha giocato Ederson, sponda Manchester City che sono assenze veramente molto importanti, De Bruyne è stato in panchina tutto il tempo perché doveva giocare ma ha avuto un virus intestinale che l'ha fermato prima della partita e poteva essere sicuramente un elemento molto molto importante anche perché Holland oggi è stato veramente assente e molto molto deludente e senza De Bruyne, sappiamo tutti che non funziona perché De Bruyne gli mette sempre le palle precisissime. Foden invece con questo gol nonostante appunto sia scomparso per 3 quarti della partita conferma appunto la sua grandissima stagione Foden che sicuramente merita in questo momento di essere almeno nella top 10 per il pallone d'oro 2023-2024, parlando invece di pallone d'oro 2023-2024, nell'altra sponda della partita, Bellingham ha deluso molto le aspettative, ha giocato benissimo Rodrigo, ha giocato bene Vinicius che ha fatto l'assist al Valverde ma non solo, ha fatto una bella prestazione, poi è stato sostituito poco dalla fine e si è anche arrabbiato con Ancelotti, Bellingham invece poco presente, molto deludente, sicuramente ci si aspettava di più in una partita come questa. Invece dall'altro campo, all'Emirate Stadium a Londra, tra Arsenal e Bayern Monaco, anche loro regalano una bellissima partita che si conclude con il risultato di 2-2 dove l'Arsenal apre le marcature dopo pochissimo tempo con un bellissimo giro di sacca da fuori area che apre appunto le marcature di una partita sicuramente molto difficile per l'Arsenal, non da sottovalutare, nonostante appunto il Bayern Monaco stia vivendo uno dei suoi peggiori momenti dell'ultimo decennio, veramente poco ma sicuro, ma il Bayern Monaco ha dimostrato che in campionato in Champions League la solfa è diversa. Il Bayern Monaco riesce a rimontare poco dopo il risultato, anche qui una rimonta, anche qui tante emozioni, veramente due partite incredibili, con un gol di Gnabry arrivato da un errore al centrocampo dell'Arsenal che ha appunto aiutato il Bayern Monaco a creare l'azione, poi Gnabry fa passare la palla sotto le gambe di Raia per appunto pareggiare il risultato e poi il Bayern Monaco passa in vantaggio poco dopo con un rigore realizzato da Henry Kane, l'ennesimo di questa stagione derivato da un infermabile l'eroe Sané che ha fatto veramente una grandissima partita e per procurarsi rigore si è fatto un'azione veramente incredibile, personale, che non riuscì a fermare nessuno, l'unico che è riuscito a fermarlo è stato Saliba, commettendo fallo e dando appunto il rigore al Bayern Monaco per poi appunto chiudere la partita Trossard che non è sempre titolare ma è sicuramente un elemento indispensabile di questo Arsenal che nonostante non sia sempre titolare ha siglato appunto il tredicesimo gol in stagione, veramente non male per un giocatore che appunto non gioca sempre titolare. Due partite incredibili, due partite emozionanti che sicuramente hanno regalato grandissimo calcio, domani ci saranno Paris Saint-Germain, Barcellona, Atletico Dortmund che secondo me non sono all'altezza di queste due partite ma meno male che queste due partite si ripeteranno, case in luoghi però opposti settimana prossima. Voi cosa ne pensate di queste partite? Vi sono piaciute? Condividete con me che Real City è una delle partite della stagione? Sono la partita dell'anno? Fatemi sapere.